bisognerebbe avere il coraggio di ribadirlo ancora una volta con forza e senza esitazioni la situazione in cui ci troviamo è tragica ma non è seria la potremmo plausibilmente credo fotografare nel modo che segue abbiamo le solite brigate fucsia delle sinistre al servigio del capitale che giubilano e si esaltano più baldanzose che mai ha trionfato il girl power esse tuonano ha vinto l'emancipazione sul regresso ha trionfato rincarano la dose il progresso sulla fazione della sempiterna reazione insomma per le sinistre fucsia vi è di che giubilare perché mai ma è del tutto evidente perché adesso esse ripetono due donne sono al potere lagarde e ultima von der leyen è una vittoria delle donne ripetono stoltamente le sinistre fucsia e i loro militonti completamente dimentichi della verità della guerra di classe di cui ci hanno erosi ci hanno resi edotti marx gramsci e tutti gli eterodossi loro allievi in verità non si tratta affatto è evidente di una vittoria delle donne al contrario è la vittoria della classe dominante contro la classe dominata è una volta di più il trionfo plateale dell'elite globalista cosmopolita sui popoli sofferenti della vecchia europa sulle classi lavoratrici che sono sempre più martoriate dal dogma liberista è la prova ulteriore a riguardo di quello che da tempo andiamo sostenendo ossia essere l'unione europea l'unione delle classi dominanti europee contro le classi lavoratrici europee in effetti le due donne summenzionate la guard e von der leyen si accingono sempre per conto dell'unione europea e della sacra lex dell'ordo liberismo a massacrare senza pietà le classi lavoratrici e i popoli d'europa le due donne summenzionate sono esponenti giova ribadirlo della global class dominante sono l'emblema di quella che jürgen ambermas in un suo fortunato saggio ha definito la spirale tecnocratica la spirale tecnocratica gestita da bruxelles a beneficio di bruxelles dalle classi dominanti cosmopolitiche a beneficio esclusivo delle classi dominanti cosmopolitiche è ancora una volta una vittoria di classe biecamente camuffata come vittoria di genere non hanno vinto le donne non ci stancheremo di ripeterlo ha vinto la classe dominante con le sue donne con i suoi uomini sulla classe dominata con le sue donne con i suoi uomini ma sapete peraltro chi è realmente ursula von der leyen che adesso a reti unificate celebrano il clero giornalistico il circo mediatico e i mandarini del potere intellettuale non sapete chi è provo a ricordarvelo celermente al tempo della crisi finanziaria greca ursula von der leyen propose apertamente di ipotecare le riserve aure del paese ellenico a mo di garanzia del prestito concesso dai creditori internazionali ordunque quella proposta scellerata fu giudicata a tal punto radicale che perfino l'esecutivo capitanato da Angela Merkel pensò bene di prenderne pubblicamente le distanze avete capito allora quale sarà il futuro dei popoli europei qual è il destino delle classi lavoratrici è facile da capire in fondo basta seguire e proseguire per linee tratteggiate il nostro presente intensificato però ulteriori dosi di austerità repressiva ulteriori dosi di spending review come la chiama la liturgica neolingua dei mercati anglofoni ulteriori dosi di massacro preordinato dei ceti sofferenti sempre in nome del vangelo del cielo chiede l'europa sabassandir le sinistre fucsia che ora giubilano sono quelle che continuamente scendono in piazza contro il manganello mussoliniano morto e sepolto nel 45 e poi appoggiano in pieno il nuovo manganello invisibile dell'economia di mercato che percuote continuamente i lavoratori e le classi deboli in nome dei dogmi dei responsabilizzanti del cielo chiede il mercato cielo chiede l'europa la signora von der leyen vestale del cosmopolitismo liberista e glamour ha esordito senza lasciare alcun dubbio il suo discorso di presentazione era tutto incardinato sulla lotta di classe sì la lotta di classe dell'alto però la lotta di classe della global class cosmopolitica o anche se preferite quella che christopher lasch negli anni 90 chiamava la rivolta dell'elite già che oggi sono le classi dominanti a condurre la lotta di classe dall'alto portando via tutto ai dominati mediante una maestosa contro rivoluzione liberista che ha per unico obiettivo l'offensiva spietata contro le classi lavoratrici di modo che venga loro portato via tutto tutto quel bagaglio di conquiste salariali welfaristiche e sindacali che avevano ottenuto nei conflitti di classe novecenteschi ecco il discorso di presentazione di ursula von der leyen è davvero emblematico da questo punto di vista è tutto incardinato sulla lotta contro il populismo e contro il sovranismo ossia questo il punto decisivo contro quella sovranità popolare che è la base ineludibile della democrazia lo sappiamo ormai la global class cosmopolitica odia il populismo cioè il popolo e odia il sovranismo ossia la possibilità dello stato sovrano di controllare l'economia deregolamentata in una parola diciamolo apertamente la global class cosmopolitica degli euroinomani di bruxelles dei globocrati sans frontières degli ammiragli della finanza dei cartolirizzatori cinici del futuro dei popoli ecco questa classe dominante odia la democrazia la quale democrazia è per sua essenza sovranità del popolo e non del mercato e della sua classe di riferimento la democrazia nella sua accezione più ampia significa che il popolo ha il potere e che il popolo è al potere fa valere l'unione simbiotica di demos e di kratos ossia implica la possibilità per il demos di autodeterminarsi nel suo spazio territoriale ciò che invece è impossibile nel quadro dell'odierna globocrazia dei mercati che si fonda esattamente sull'annientamento degli spazi nazionali democratici di modo che per il demos non vi sia alcuna possibilità di autodeterminarsi e le scelte ultime grazie alla transizione post democratica garantita dagli enti sovranazionali come il fondo monetario internazionale o la banca centrale europea la decisione ultima dicevo venga rimessa nelle mani di elite cosmopolitiche prive di ogni mandato democratico in una parola ancora l'accessione di sovranità non serve a evitare le guerre del novecento come ripete l'ordine del discorso serve invece a destrutturare le democrazie nazionali distruggiamo le democrazie nazionali pur imperfette in nome di impossibili democrazie globali che non esistono nella misura in cui non può esistere un demos globale un parlamento globale ciò che di globale esiste soltanto il dominio transnazionale dei mercati apolidi e della loro classe apolide di riferimento la signora von der leyen ha incensato in termini parareligiosi il libero mercato la somma nonché unica divinità in cui crede l'europa non è certo un caso se l'europa oggi non è più in grado di innalzare cattedrali e templi non è più in grado di innalzare monumenti verso il cielo che colleghino il piano dell'immanenza con quello della trascendenza è solo in grado di erigere banche e di creare ab finanziari cosmopoliti un'ultima nota sulla quale vale la pena di insistere pure impressionisticamente la signora von der leyen ha annunziato tempo addietro che proporrà il salario minimo europeo sembra una conquista sociale questa se non fosse che la signora von der leyen ovviamente non ha fatto neppure un vago cenno a quale sia la possibile entità del salario minimo europeo del resto che cosa ci aspettiamo da chi proponeva di ipotecare i beni pubblici e le riserve aure della greca della grecia come direbbero i latini intelligenti pauca